ciao da zolo oggi entriamo nel mondo fantasy dipinto che sto per realizzare è tutto su tal su dipinto che sto per realizzare è tutto su tonalità rosa e viola prima di lasciarti al dipinto ti ricordo di iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto prima di lasciarti al video ti ricordo se non l'hai già fatto di iscriverti al mio canale perché prossimamente caricherò altri video e tutorial e se anche tu come me puoi diventare uno spray painter ti aspetto nel mio gruppo facebook zolo spray art tutorials dove riceverai tutte le informazioni per poter iniziare questa bellissima arte mi raccomando se il video ti piace condividilo su tutti i tuoi social network e non mi resta che augurarti un buon spray paint ciao iscriviti al canale 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 iscriviti al canale